Dici 115 a 101 e ti viene in mente una gara della NBA, il campionato professionistico americano. Invece stiamo parlando di una Hotels a Reggio Emilia, Humana Reier Venezia, gara valevole per l'undicesimo turno della regular season del massimo campionato di basket italiano. Partita davvero appassionante con i lagunari che prima a più 17 e poi a più 12 non ce la fanno a scrollarsi di dosso la squadra dell'ex Vitali, che si batte con il coltello tra i denti vista la critica situazione di classifica e che costringe una pur positiva formazione lagunare trascinata dalle straordinarie prestazioni di Spissu e Granger a ben due tempi supplementari prima di deporre le armi in un conclusivo extra time dove gli Oro Granata piazzano il 17 a 3 decisivo per il successo finale. Buona prova anche di carattere per tessitori Moraschini e compagni che risalgono la graduatoria distanziando Brindisi, sconfitta da una grande treviso al Palaverde di Villorba, ma mancando l'aggancio a Pesaro che all'AGSM Forum di Verona si aggiudica un altro match tiratissimo risolto dai marchigiani nel minuto conclusivo di gioco. Trieste torna sconfitta da Varese, eppure in questo caso al termine di un'altra battaglia conclusa al fatidico traguardo dei 100 punti, mentre l'impresa del giorno si può senza dubbio attribuire alla Trento del mestrino Emanuele Molin che riesce a fermare addirittura i campioni d'Italia dell'Armani Exchange Milano.